In arrivo anche sulle strade di Valtellina e Valchiavenna un weekend da Bollino Rosso. Anas infatti prevede un fine settimana di intenso traffico sulla rete stradale di propria competenza per il rientro nei grandi centri urbani e verso le regioni del nord Italia, ma anche per le ultime partenze verso le località turistiche. È il caso della statale 38 dello Stelvio che anche stamattina ha registrato un massiccio traffico di veicoli diretti principalmente nelle località di villeggiatura dell'Alta Valle, ancora affollate. Come mostrano le immagini coda quasi ininterrotta e flusso di auto a velocità ridotta nel tratto da San Giacomo di Teglio fino a Tirano. Più degli altri anni a causa dell'emergenza sanitaria rileva lente strade, gran parte degli italiani si è spostata all'interno del paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade. Domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Fra le arterie interessate dal monitoraggio H24 c'è anche la statale 36 del lago di Como e dello Spluga via di accesso privilegiata alla provincia di Sondrio.